Tutto pronto per la sessantesima rassegna degli ovini a Campo Imperatore. Si terrà come di consueto il 5 agosto prossimo e a organizzare la Kermess che vede riversarsi sulla piana migliaia di ovini sarà la Camera di Commercio dell'Aquila. Un appuntamento storico nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, importante per la Camera di Commercio anche per riflettere e dedicare attenzione ai problemi dell'economia montana. La rassegna è da sempre fonte di forte attrazione soprattutto per le regioni vicine e per tutti i turisti che affollano il litorale abruzzese. Rientrano così anche le proteste degli allevatori che avevano minacciato una lunga marcia con i loro animali fino ai cancelli della Camera di Commercio per esortare lenti a fornire certezze sull'organizzazione dell'evento. Segno che la rassegna degli ovini a Campo Imperatore resta un appuntamento molto importante per tutto il territorio. C'è stata un'edizione nella quale non eravamo in condizioni rispetto alla circolare Gabriele di sostenere né i costi né quel tipo di organizzazione. Per cui la Camera di Commercio, ci tengo a precisarlo, è un organizzatore, non è il responsabile del territorio e dell'altro. Quest'anno le condizioni e gli alleggerimenti che in qualche maniera ci sono stati ci consentono di riorganizzare così come gli altri anni precedenti a quello che la Camera ha sempre fatto. Che cosa aspettarci dunque il 5 agosto? Beh, innanzitutto aspettiamoci che sia bel tempo perché le condizioni meteorologiche là sopra condizionano la riuscita alla rassegna di vini. Il sessandesimo sarà organizzato negli stessi modi del cui la tradizione prevede, quindi ci saranno i pastori che porteranno i capi o vini, faranno questo raduno dei capi o vini a Campo Imperatore, ci saranno esposizioni dei prodotti tipici e ci saranno tutte le condizioni di sicurezza che la circolare Gabriele ci obbliga ad avere. Ecco, è un settore quello dell'allevamento ancora in grado di spostare i PIL in Abruzzo? Sì, è un settore che sposta il PIL in Abruzzo ed è un settore che al di là di quello che si dice continua ad avere buoni segnali di mercato e anche regge tutto sommato anche ad una difficoltà che sono anche esse di carattere collaterale, non tanto di capacità e della qualità che gli operatori hanno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.